Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale nella giornata di oggi, venerdì 15 marzo 2013. Come vedete sono le 21.16. Anticipiamo, grazie allo spasamento temporale dovuto all'entrata in vigore del l'ora legale negli Stati Uniti che sostanzialmente ha per questa settimana spostato un pochino tutti gli orari, soprattutto del pomeriggio sera. Quindi borse americane chiuse da pochi istanti e di conseguenza un prosciugamento dell'attività sui future europei che come vedete sono molto molto stabili a questo punto, quindi possiamo trarre le considerazioni su questa settimana che, lo ripeto, si è appena conclusa e come sempre, attenzione, perché purtroppo come titolavo anche settimana scorsa, i rialzi che comunque ci sono stati anche in questa settimana restano tutti da confermare. Quindi vedremo tra un istante il perché. Allora, e in buona sostanza, per prima cosa che cosa è successo? Tra parentesi nella giornata di oggi, appunto venerdì 15, c'è stato anche il definitivo rollover degli ultimi contratti appunto da girare, che erano in particolare, passando alla scadenza giugno e parlando dei contratti future, il Fuzzimib, il DAX e l'Eurostox. Quindi anche i livelli, mi raccomando, vanno riparametrati sulla scadenza giugno, specialmente quelli più vicini nel tempo, come faremo tra un attimo. Comunque è di base quello che è successo questa settimana, che c'è stata appunto, e lo vediamo, sostanzialmente una conferma della rottura al rialzo di quell'ampia area di congestione che aveva intrappolato i mercati. L'Eurostox in particolare ha, dopo aver superato il massimo della congestione stessa, testato, questo è l'elemento più importante, il massimo stesso in maniera direi quasi millimetrica nelle giornate, nella prima parte della settimana. Poi da qui c'è stata una ripartenza verso l'alto, che poi, attenzione, qui vengono i primi dubbi, non ha portato purtroppo in chiusura di settimana a un superamento del massimo precedente, cioè del massimo del giorno 8 marzo. Questo è il problema, che poi e in qualche modo era già sorto settimana scorsa. Quindi la prima e grossa tematica sulla quale concentrarsi sarà ancora, e vi ripeto, purtroppo, perché saremo tutti molto contenti di vedere che appunto questa positività è confermata, ma ancora non è così, i rialzi sono ancora da confermare. Ripeto, il primo elemento di preoccupazione è proprio tratto dall'Eurostox, che dopo aver attestato il massimo della congestione e superato i massimi precedenti, in chiusura di settimana e quindi nella giornata di oggi, venerdì, che appunto si è di base e sostanzialmente appena conclusa, rientrato rispetto al massimo precedente. Questo sinceramente non è un qualcosa che vorremmo vedere accadere nelle giornate di reale conferma di positività. Poi, altro elemento, ed eventualmente quando e se ritorneremo sopra i massimi, diciamo, della giornata di oggi, venerdì 15, sarà assolutamente importante per l'Eurostox superare questi, che sono ormai a un passo i massimi di gennaio, per un'ulteriore conferma della positività. Quindi quest'area di livello eventualmente sarà sicuramente molto, molto importante. Sull'Eurostox, la situazione, scusatemi, sul DAX la situazione è analoga, anche se il DAX ha sempre teso a sovraperformare, quindi aveva lui per primo rotto i massimi della congestione. Non c'è stato neanche un vero e proprio test dei massimi della stessa, si è fermato molto prima, è ripartito a rialzo, ha superato i massimi precedenti. Nella giornata di oggi, venerdì, c'è stata una discesa e un rientro negli stessi, anche se al momento, vedete, sembra essere voler chiudere la settimana al di sopra dei massimi precedenti, cioè appunto dei massimi di nuovo dell'8 marzo scorso. Quindi il DAX in qualche maniera continua a sovraperformare, ma la preoccupazione ci viene e dovremo poi eventualmente eliminarla seguendo quello che accade principalmente sull'Eurostox. Tra l'altro, nella giornata di ieri giovedì, vi parlo del giovedì 14 marzo, che è stata sicuramente una giornata positiva, andiamola a vedere in intraday, dove si sono sì superati i massimi precedenti. Quindi c'è stato in qualche modo un inizio di tentativo di conferma, in particolare anche, oltre che la mattina, nella prima parte del pomeriggio. Anche se poi, lo vediamo, c'è stata questa sostanziale lateralità che ha, nel pomeriggio americano, quindi dalle 19 in poi, portato ad una chiusura non sui massimi, come invece sappiamo dovrebbe accadere nelle giornate di vero momento, nelle giornate di vera direzionalità. Quindi già ieri si vedeva che sotto le ceneri ancora una volta purtroppo c'era qualcosa che non andava. Altro elemento importantissimo sono i gap ancora aperti all'interno della congestione, che sono quello del 6 marzo, che sull'Eurostock si chiude ai 2607, laddove il minimo del 6 marzo era 2625. Mi raccomando aggiornare i livelli con la scadenza giugno dopo il rollover, quindi vanno aggiornati anche i livelli chiusura gap sulla chiusura appunto del giorno 5 marzo a 2607 rispetto ad un minimo, perdonatemi, del 6 marzo, che è a 2609, non 2625, che invece è la chiusura del 6 marzo. Quindi laddove questo minimo per due soli tic non ha chiuso il gap, il gap è purtroppo ancora da considerarsi aperto, il gap è in pienamente all'interno della congestione. Anche questo è un elemento importante sul quale concentrare la propria attenzione. E purtroppo lo stesso gap interno alla congestione risulta essere ancora aperto anche sul DAX, anche qui bisogna aggiornare i livelli rispetto alla scadenza giugno, eccolo qui. Allora vediamo che il minimo del giorno 6 marzo è a 7.864.5, laddove il livello chiusura gap, ovvero la chiusura del 5 marzo, è a 7.857.5. Quindi anche qui per veramente una manciata di punti, il gap interno alla congestione, perché vedete che il massimo di congestione era questo, è di poco di nuovo, ma il gap interno alla stessa. Ecco, risulta essere ancora aperto, quindi altro elemento che purtroppo ci preoccupa. Infine, due parole sul nostro FIB che sta pesantemente sottoferformando, anche purtroppo, oltre che per la situazione economico-politica italiana è l'incertezza che l'accompagna. Ecco, c'è da aggiungere l'entrata in vigore dal Tobin Tax primo marzo che ha, lo sapete, sicuramente prosciugato i volumi di contrattazione per quanto riguarda la borsa italiana e sicuramente non ha aiutato in una fase come questa. Il mercato italiano sta veramente subendo e purtroppo una situazione molto, molto pesante, perché, ripeto, i tentativi di recupero sono da un lato cassati, perché la positività di fatto c'è, anche se è, lo ripeto, da confermare, dalla situazione politica economica sicuramente molto incerta e dall'altro lato anche dalla Tobin Tax che proprio il primo marzo, come una beffa entrata in vigore, andando a prosciugare ulteriormente, notevolmente, andate poi a verificare i dati, ma è veramente una situazione sicuramente preoccupante, per non dire drammatica, i volumi delle contrattazioni sulla borsa italiana portando quindi ad un ulteriore freno all'eventuale recupero. Poi andiamo a ricordare, al di là di tutto, che la borsa è il luogo dove industrie, aziende vanno a finanziarsi e creare un così grosso prosciugarsi di liquidità sulla borsa italiana, come molti prevedevano accadesse con l'entrata in vigore della Tobin Tax e purtroppo questo si è verificato, non è certo quello che serviva in generale, ma poi in particolare anche quest'anno. Quindi sicuramente la situazione del FIB purtroppo per le ragioni politiche, economiche e anche per il motivo aggiuntivo che, ripeto, non ci voleva portato alla Tobin Tax, fa un pochino storia a sé. Vedete quanto è indietro il FIB, il massimo della congestione sarebbe questo, che DAX e STOX, eccolo qui, lo hanno superato, eccolo qui, da tempo ormai si può dire. Noi siamo ancora molto molto indietro, anche i movimenti sul FIB sono molto molto contenuti. Ripeto, gli scarsi volumi sicuramente, come conseguenza dei dati in vigore della Tobin Tax, non aiutano il nostro indice e la situazione della borsa italiana. Detto questo, riassumendo i temi per la settimana entrante, allora vediamo sull'Eurostox, questa mancata conferma perché è mancato il superamento del massimo precedente, stessa cosa più o meno sul DAX perché lo slancio che avrebbe seguito il superamento del massimo precedente ha subito una giornata di venerdì 15 appena conclusa, sì, un sostanziale stop. Laddove invece, lo vediamo, i mercati americani sono ancora abbastanza tonici, anche se il Nasdaq tende sempre rispetto all'S&P 500 che continua a fare massimi storici seduta dopo seduta. Da qui il Nasdaq tende un pochino di più a segnare il passo. Quindi si tratterà di vedere se in caso di positività l'Eurostox tornerà al di sopra di questo massimo, il massimo dell'8 marzo e subito dopo i massimi di gennaio che eventualmente vanno subito superati, ovvero al ribasso. Bisognerà vedere cosa accadrà laddove si torni ad un secondo test della congestione, dei massimi, perdonatemi, della congestione rotta da poco e poi tenere presente purtroppo che il gap interno alla congestione del 6 marzo è ancora aperto sia sul DAX sia sull'Eurostox e mi raccomando aggiornati i livelli rispetto alla nuova scadenza. Grazie.